ok un po' che non giocavo a questo titolino gioca casuale ricerca server inglese non mi ricordo come si chatta sinceramente partita trovata grande premi e per rimanere le persone che non è abbattuto a livello il tavolo è arrivato ma direi che siamo abbastanza bilanciati ora vediamo se con questo gioco ci andrà bene c'è un po' che parlava ok le persone che non sono non sono dove sono io o no se ne no si ne no se ne no se ne no se ne no si o o o S**t Attiva lepo Conquistando la macchina fotografica Si Ok Fantastico Eh, magari sì Mmmmm Let's get it. I got an internet. Let's get a checker and check me. Come up here. Help me get the shotgun. Come on. Let's get in my car checked over. I'm on my way. Blood bad taken over here too. These fish show those things. Who's boss? Oh my God. So he's not a honey. Jake? He's confused. Nina, Nina, Nina. Nina's one of them. I've got an infected over here. Where did she get them? Unless she didn't. Got you. Yep, Nina is definitely one of them. We boat her out at this next area. We have to get these things though. Oh, that was just a wheelchair guy. I thought somebody else transferred. No. Okay, cats. Fuck you. Jacob, follow me this way. Jacob. I'm behind you. Fuck that bitch. I thought I was shooting her. She smells bad. She's infected. It's by Kevin. Oh, this is. I have the fuse. No. All right. So we know Nina's one of them. We have to boat her out. At least there's the next culprit. That way, that way, that way, no one else has been keeping a tab on anybody else. Lisa, dude, fuck you. I just picked you up. What? Yeah. Dude. That could be a trap. Yeah, that could be a trap. I'm not going to be with some stupid bitch that's going to fucking eat blood right in front of you and then transform. We already called her out earlier. I've got to track you. All right, boat her out. I was going to say, where's the, what's all the trees? She's by the cave. She's by the cave. Shit, I hit the tree. Okay, I was like, I hit the fucking tree. All right, somebody grab the tracker. Don't use it on me. That would be the worst thing you could do. Okay, I'm not sure. Is it Alex? No. Are you sure? Yeah. No, why would he say yeah? Because we already got one of the infected, so why would he cover? All right, well, let's just hang out here for the next blackout. Just wait here. No, we can't wait here. We have to go grab the fucking thingies, or we can't leave and we'll die. Well, yeah, we just got to stick together as a group while we're getting them. Look, there's one right here. They just spawned right in front of me. Grab it. I don't know where the thingy is. And Jake's the first one to fucking run off. Look at that. I ain't dying. Fuck you guys. Jake's really super suspicious. Yep, I'm super suspicious. Really? I got a... I got one of the things, but like, I'll hear this. Yeah, they're not showing up. Yeah, I got one. It's over here. I heard it. Oh, you got it. I got it. You got it. I got it. I got it. Chronic's infected. I just saw him drink a fucking thing. He's a son of a bitch. There he is. Chronic's infected. Guys, help me. Yes. I swear all my life is chronic. You piece of shit. You said son of a bitch. I saw you eat one right on the way out. The floor is waiting. I fucking saw you. Everybody ran in except for you. You piece of shit. You're trying to set me up. No. Bullshit. I want the W. I've lost like three games in a row. We're killing them. That might be the bad call, but we'll find out. Will somebody get this poison right in front of me? No, don't grab it. Don't grab it. Just leave it? Yes, leave it. Okay. Nah, keep it chill. If you know it was chronic, then both of them are gone. We don't need the poison. I just like killing you. Well, no. Because you win too much. I win because I know what I'm doing. Okay, find a fuse. I got the escape. Got it. Found it. Okay, it's right here. Okay. Perfect. This is our way out of here. profession. I like how I do. move. Move. Allora, mettiamo un po' Allora, color clock Così Ok Ok Dai, dai Oh, partita trovata, vai Ah, è vero dei perchi, merda Ho fatto un po' le ventole perché sinceramente Caricamento, foresta Dai, dai Hello there No Dimmi che sono infetto, dimmi che sono infetto, dimmi che sono infetto No, chi non c'è? This looks useful Che cazzo Oh Oh Sì. 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 se prendo questo che cazzo fai? che cazzo let there be light cazzo 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 certo che i giocatori italiani qua è un cazzo da proprio io aspetto qua cazzo cazzo minchia qui sotto shhh non fate rumore nina 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 è un bè tera 3 3 2 1 oh 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 Nooo cazzo Nooo Porca puttana Comunque mi viene da A dire che Il problema Non ha la scritta grafica Qua cosa? Qua cosa? Qua cosa? Qua cosa? Qua cosa? Spettacolo Oddio Madonna che figata ste cose Licant? Nooo vabbè Ma che cazzo si apre qua Lupo bianco Porca Spettacolo Io direi che Allora adesso Tantan Torniamo indietro Ci facciamo Ma ti gira il cazzo Ma ti gira il cazzo Allora Andiamo Qua indietro Allora Tycos Eee 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 Ok Usciamo Da qua Eee Aspetta Chat E direi Che possiamo Riprendere Possiamo riprendere Eee Possiamo riprendere Eee Del by David Allora Iniziamo la chat Eee 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 Pa 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 Editor Incapture Incapture Proprietà No Non è ancora attivo Aspettiamo un attimo Ok Ora attivo Facciamo Incapture Proprietà Vi direi Che ci siamo Vai grande Un po' di colore Giusto Un attimino Questa proprietà Eee Welcome Configura il video Impostazioni avanzate Direi che il contratto Possiamo diminuire Il contratto Ampere Il guadagno Anche Per No Per Nel contratto Ok Esposizione Un po' di colore Un po' di colore Un po' di colore Un po' di colore Ok E ne giova Direi tutto Ok Ci siamo Vediamo un po' se Passato Passato Quindi Allora Ok Allora Oddio Cazzoni alle ruote No 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 Andiamo con la nostra Killer Allora Andiamo un po' a vedere le temperature 50 gradi Abbassato Abbassato Con MSI Questo E Sì, 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 sì! Allora... Oddio! 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 Guardiamo un po'... Sempre qua... 51 gradi... Abbassato qua... 50 gradi... Stavo... Provando... Deci... ... 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 gemme ecco cioè cioè eh voglio dire voglio dire ma senti questa voce e 2 agitare che non succede niente dai se vedi che il numero dei follow nella barra in alto non corrisponde cioè se vedi la barra sui follow reali non corrisponde vuol dire che qualcuno ha messo il follow quando ero offline tutto lì devo aggiustarlo eh guarda buonasera insino come stai sei tornata adesso da lavoro ma non eccola di prima vabbè uguale va bene ce ne faremo una ragione aspetta no io sto cercando l'altra che si era nascosta qui prima che mi manca che l'aggancio ancora una volta e l'assecco domani è finito ah bravo ma di un po dato che mai mi hai detto dov'è che lavori sempre posso chiedere cioè per verità sentila 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 sta merda pulì se ti prendo ti mando al padre eterno merda schifo la mia faccia è tutto un programma che mi viene da piangere ah proprio ok 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 insomma lavora un po' che mi viene da piangere cazzo mamma mia complimenti anzino guarda oh eccola qua l'altra bagaccia di qua eh no ho fatto da cagare ho fatto oh eccola qua l'ho presa ahi vabbè la cazzo merda l'ho perso nooo a cagare vai eia 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 guarda è troppo buona che fresca bontà come scatta eia 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 eeeh evitare evitare ma vaffanculo sei andata di qua eia eiii eeeu ma no08 veri insì nooo sti cazzi sul serio tanta di cappello di cappello, non di capello perché come vedino di cappello immagino, una volta di niente devo spaccarmi le minchia e dimmi niente, è un lavoro importante non è che mi sembra aver visto qualcuno lì allora per ora il gioco regge per ora il gioco regge non si poteva salire, no merda dove cazzo sta andando, no non poteva salire di qua, no non si poteva tanto sarà già andata via sta zoccola aspetta questa si ma eh nooo l'uraca 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 vabbè oh minchia sto bot di merda si ma si ma si sono da morca puttana da loro sembra il credito l'uraca l'uraca si ma l'uraca l'uraca se ne metti troppo se ne metti troppe devo sistemare la roba ok stop spamming si ma nooo è un problema questo bot di merda cazzo si sale adesso nooo no 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 è sbagliato è ormai è passato di qua nooo dovevo seder di la ora porca puttana me ci sarà qualcuno lì dubito no saranno già andati via eh beh di guarda sarà insieme questo cazzo di mouse di merda pelino oh ma ah eccovi finché ora che prendo sta prendo per la fede del culo sta tipo chewing gum non fa rumore non fa rumore nooo di un po' l'hai finito Detroit become human è sempre accesa eccola lì sta maledetta schifo siiii sta zoccola sta zoccola sto preso eh sto preso eh sto preso eh sto preso eh merda merda schifo come come liscio quelle volte cazzo eeeh nooo signorina è arrivata ora hmm Armadietta è qua, grazie, ok C'era la zoccola che era andata di lama Però vediamo di sbagliarci di nuovo E di nuovo mi sono sbagliato No, maledetta schifo Sono andati di là Fammi un po' sbagliare di qua che magari riesco No Maledetta schifo Dai Ah, è bellino Più vicino, più vicino Eeeh, qua No No Non è cercato a questa parte che senti dentro sti maledetto qualcuno è già scappato quindi vuol dire ecco la lista ok qua non c'è nessuno qua neanche è andata è andata è andata sono di qua sono di qua sono di qua minchia vabbè vediamo un po la temperatura qua 63 gradi insomma insomma eh vabbè allora andiamo tiriamo di nuovo usiamo sempre lei allora tanto tanto aspetta che questo lo serve mai vai livello 34 si si Ok Ok Eterosexual pride Gade White Non so se mi spiego Non so se mi spiego Perché si danno sti cazzo di nomi Andiamo qua Sessanta 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 45 Dai 45 Ma Stavo dicendo Stavo dicendo cazzo Dicevo Dicevo Cosa l'hai finito? Ehm You Detroit becomes human No Sospeso No Sospeso Per 600 secondi Porco Zir Ma non ci credo Porca Puttana Sto bot Di merda Ma non ci credo Cioè Ma non ci credo 100 secondi è un po' 10 minuti 10 minuti Cazzo Ma non ci credo Ma non ci credo Ma non ci credo I Ai Non ci credo Non ci credo Non ci credo No Cazzo Cazzo io ricordavo che se lo spendeva per 600 secondi sinceramente Abbi pazienza veni guarda Sto cazzo di botte che No Dicevo No Devo No Niente Eccola Dicevo L'hai E' finito coso Detroit become human Porca Marisa Impestata di merda Scusa le parole del gatto Amen Eh che casino fate Non so Rai di qua o è di là Casino No Rai di là Decisamente di là Sto cazzo di cavo Scelta è troppo difficile da fare in Minchia 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 è andata di qua Che cretino Ecco Giocone però Per modo di dire E' uno E' due E' due Homosexual Ah ok Eh ma mi sa che prima o poi non lo prendo No Tanto ora la vanno a prendere Quanto ci fai? Tre Ma sto vecchio Nooo! Siiii! Per quello l'amo! Per quello l'amo! No, mi sa che è passato... No! Uuuuh, signori miei! Eh? Dove cazzo? Ma porca! Eccola lì! Eh, guarda! Ci vuole la pazienza del diavolo! Avendo a che fare con i clienti il negozio... A parte che oggi me ne capita... Ma ieri mi hanno fatto dannare, cioè... Nooo! Oh, bling! Trampò gli sfondo la caviglia con la merda! No, andata lì dentro... No, mi sa che è andata fuori... È andata! Ho sentito qualcosa, eh! Ho sentito! Capitana! Eh, guarda! Eh, guarda! Ieri ho beccato bene un... Un pre-made di quelli belli tossici! Poi, dun, dun, tu... Banti di ruolo Andràci... Mi farò... Buona fada! Poi... Ehi, cinese! no poi magari è coreana non vorrei essere razzista merda non c'è più di accette da lancio dove vai? dai ti voglio fare una carezza ma è andata su di sopra ma è ancora lì eh aspetta sarà ancora lì? ne manca uno di genna puttana trua merda schipa no dai spaccalo ho sentito morca troia ho sentito qualcosa e niente ho perso quello ho fatto la cagata porca troia se ti prendo ma cazzo ma ancora lì? uuuuuh 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 Un'altra cosa più vicina o no? Qua dai Ciao Merda, stanno finendo Porca troia Eh ma non l'ho presa la pig io Merda Eh cazzo Porca puttana con le sciate Dai, dai Cristo bedonna Io voglio lei Porca puttana C'è una una C'è una una Minchia No no Si C'è qualcosa Ciao Ciao Becille Ma io Praticamente Forse ho già detto che ho iniziato da Da killer Guarda Ma è sta cazzo di chat che si illumina un cazzo Ho iniziato da killer Eh andate Killer spietato Sono un terminator G-g-g-dights Vocazione 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 Aspetta un po' Aspetta che Abbasso un pelo Oh Vocazione Ora vediamo un po' Allora Vocazione Sa come non ce l'ho Ansia Eh Ansia Eh Mi sei arrivato Come va Night Non ho più dato una mano Con i nostri vlogs Ma vi pazienza Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Vocazione Eh Adesso Magari si chiamano lobby Oggi hai dato un esame Di cosa Di cosa Eh vabbè Non ci avrai butto in quei cazzi C'è un memento qua Che Ma Ma A me Ste cose Non me ne frega un cazzo Di andare Ah Della nu Eh Della nu S Gestione Produzione Minchia Allora Terzo Se Tanto vediamo cosa c'è Terzo Se C'è La Sua Abilità Di lettura Della Una C'è Volevo finire di leggere Disgrazia Cristina Killer Joker No io dire Mi farei C'è voglio Voglio fare una roba Bisogna Che mi segno I nicknames più strani Prima c'era quello lì Che si chiamava Eterosexual Qualcosa 56 gradi Eterosexual Pride L'altro Gay Dwight Un qualcosa del genere Mamma mia A parte che non riesco a venire A sistemare un po' Sta cazzo di luce Negozio squallido Come il gioco Allora Qui l'altro Ieri Mi si aveva tutto sbombolato Vediamo un po' Se se li succede O se grazie All'Underclock Lavoro in negozio Di ferramenta Caro mio Il paradiso della brugola No vabbè scherzo No comunque il negozio di ferramenta Ma non l'ho mai visto Serio Cioè non l'ho mai sentito E c'è il basement Qua il pal Nooo Dai che cazzo Che cosa vuoi? Protet Eh? Fatti i cacchi tu Io la voglio portare giù E la porto giù Cascasse il mondo Quattro su quattro su quattro in sto game Cioè Cioè Sento Un lamento Sento Ah no Allora è di sotto Che si lamenta Che palle sto mouse Allora è di sotto Ah beh Eh sì Magari PORIN SIIIIIIIIIIII F***er Dicono ma perché la cacciatrice? Visto il perché? Visto il perché? Se venissi si è un po' pratico degli FPAS e roba così Cioè dai è un must Intanto direi di andare a rinforzarci di accette qua che non trovo armadietti, manca a pagarli Sì ma nooo, oh ma non mi hanno fatto neanche un jack Potrebbe essere andata non di qua Che è il mio sesto senso mi dice, il mio senso da ragno Senti come piange, a sta maledetta schifo, io voglio andare da lei Ma come l'hai lasciata Cazzo Sì, l'ho presa Ma nooo, ma che schifo sono Se dovete ammazzare qualcuno che vi sta sul cazzo chiamatemi pure A gratis Allora sei cretina Ma allora sei cretina Si è fatta morire Mi sa che li ammazzo tutti Minchia un po' più lontano Ma guarda ce n'è tre dei vicini Cristina Cristina d'Avena O l'altra Questa è la cantante di... No, qua eravamo prima Di... Cristina Aiutatemi ragazzi Il vecchio che mi vola Ma perché mi hai preso per un cretino? Eh Cristina Chi nottara Che tira ai chi notti Dai cazzo Cazzo si è andato Tanto ci prendiamo a questi va No, sta sbal... Guarda sta svalvolando il gioco Di nuovo Di nuovo Di nuovo Ragazzi qua Abbassato anche Moltiplicazione Grazie a te Grazie a te Grazie 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 a te Ebeni No, dove cazzo mi sono infilato No, 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 no No, 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 no Viscio Cianzino, presto ecco fatto no guarda che bocchina di artefatti qua mi può vedere il 65 cioè non è che sta e due sono andati no no c'è proprio qualcosa che non va c'è proprio qualcosa che non va ma in sto livello qua in un altro cioè ho fatto ho fatto la verifica dei fight come ha detto Vlad ho disinstallato il gioco oh cazzo zs eeeh ciao minchia mi sa che è 4 su 4 non lo faccio sul serio questo ciò le diamo ritorno ciò le diamo ritorno c'è proprio devo cambiare delle impostazioni della scheda grafica devo andare dopo le impostazioni vedere un po' se riesco a capirci qualcosa spero che non debba riavviare il gioco eh cari miei qua è qua ah non c'è il tipo di appiopolato lì che di solito si mettono lì mi sa che mi sa che no 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 non è qua non è qua non è qua qua facciamo una guarda qua facciamo una guarda per per fare per 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 Oh bene bene Sì ma Sto vecchio No il vecchio l'ha ucciso Oh il guerriero Novantanove Come stai? Mene dai che me ne manca un Addio Tutto qui? Stai tutto qui? Ma stai bene? Com'è? 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 Vogliamo sapere qualcosa di più Ma sto qua finito di fare il generatore C'è Ma c'è la botta da aperta Puttana merda Ti ci porto io Ti ci porto se vuoi Cazzo E' qua Cretina E' qua Stai scegliendo Un'oraio video stream Ma Serale O meridiano Mi sto rompendo i coglioni Serale Io ti dico Io di solito Dieci e mezza Io Personale Se c'è più tempo Per carità Già 8 e mezza 9 9 e mezza Così Signorino Mi sto rompendo i coglioni Però Young Signorino Ma ci voglio andare A sto cazzo di botola Cristo Cosa ti costa C'è Quindi ragazzi Qua Questo Sto cretino Qua Non Niente Minchia Ce l'hai fatta Oh La vita Egli rispose Allora Diciamolo A quanto A quanto Era Come gra 62 Dimini Ancora 1100 Tac Tac Ok GG GG no gg allora scegliamo la lobby scegliamo il nostro tratterino preferito oh una ricompensa dopo di cera accessorio trappola per orsi symphony of chaos questo è russo questo due vai dai ci sentiamo presto ciao caro buonanotte ah devo prontare si aspetta che qua memento mori facciamo tre l'ultimo sopra sempre che riesca a uccidere tutti vabbè però se non lo uccidono andrei confermarlo si spera si spera si spera si spera perché sinceramente non mi ricordo non mi ricordo guerriero così così caso che guerriero imbarazzante guardiamo un po' ecco la situazione 53 gradi direi creepy è abbastanza creepy qui sta a vedere a me creepy stai a vedere a me creepy delle idee 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 per lo stream si 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 ah andiamo a una mascherina mettiamo subito la trappola qui dietro in quanto i nostri mancapitati sopravvissuti o no sopravvissuti o no o no o qua prima partita o questa la cagliamo qui ci prendiamo questa e ne mettiamo una qua ah beh si ci sta eh ma io ti dico sai che becco becco della gente io dopo pranzo becco cioè qualcuno lo becco eh io preferisco fare ingo trance no mi sono bloccato il corso di affore vai di vai di vai di eh dovevo andare dovevo andare dovevo andare sete di sangue vai buttalo giù buttalo giù vai eh guarda t'ho preso eh Ah guardali, guardali, guardali Merda Maestro, che maestro Magari io non vado a sbattere contro i cazzo di uccari Ma cosa ti frega della tracca, dai Io ce la rimetto Quindi Dai, andate a salvare, ragazzi Perché non andate a salvare, scusa Mi piace Eccola Dai 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 Que bossa Eh Cazzo, vorrei da qualcun'altro qui Merda E io vado contro Che la prossima volta Lei muere Perda, uscita Sì Uscita Perda di qua Perda di qua Sì No No Aspetta 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 Sì Eh, mi dispiace Eh, va Così, eh l'accettiamo l'accettiamo andiamo più lontani possibili dai 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 ecco fatto saluto donna ti saluto saluto Gigi... 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 No, no, no! Ancora lì! Ma il cuore! C'è la dratta qui! Torno! E vai! E vai! Mi sa... Mi sa che è proprio uno... Vabbè, la rimettiamo qua! Vabbè, la rimettiamo qua! Vabbè, è arrivata da salvare, su! Vabbè, la rimettiamo! Vabbè, la rimettiamo qua! Uuuuh, che casino fa! Uuuuh, uuuuh! Eeeh! Perché fai nei generatori? Per poter uscire dalla mappa! Per aprire i cancelli! Perché se no, non escono! Vai, aspetta! Vai, ma con una lisciata! Eeeh! Uuuuh! Se tu fai i generatori in questo gioco, apri i cancelli e puoi uscire! No! Lì dove ho già fatto il coso! Sto mettendo troppo tempo, eh! Ecco fatto! Sì, perché praticamente, i generatori sono collegati ai due cancelli principali! Uno è la, l'altro... Track for forever, eh Vlad! Buonasera Vlad! Prima ha fatto delle partite con una cacciatrice che c'era! Lievati, proprio! Lievati! 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 Vado a gittare, dai! 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 Gittare! Gittare! VeHI? Ok! Vado a gittare! Guardate quante segni, eeeeeee! Eeeh! Gittare con i K Carolyn. Forse pavancare! Inve Zweist! io ti lascio andare perchè gli altri due sono andati di lì invece no invece no sono andati di lì ho detto sta qui sai cosa fai mi dè pista così ecco sono qua ho sentito la mente che liscio a è combattuta è andato di qua o di là? non sa di là no? e invece sono andati di là è andato di là è andato di là è andato di là è andato di là si va bene ah per favore per favore si verrà a salvare qualcuno e muoiono ecco però sono morti quando li apprendi per la terza volta muoiono sicuro la seconda volta quando li apprendi la prima volta devono stare lì per un po' appesi ok sono usciti vengono acchiappati dall'entità ehm non vi spiego bene a zero bello bello al cento 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 ho vinto si ne ho ammazzati 2 su 4 ho vinto ma non troppo diciamo allora ti spiego un po' meglio se tu appendi per due o tre volte il survivor le possibilità che l'entità renda il malcapitato aumentano quando tu vedi un quad di solito c'è la ci sono i nomi dei survivor e la loro energia quando te li appendi devi che diventa rossa e piano piano restando appesi diminuisce piano piano ma stanno cosa fai? mangio gli spaghetti c'è un pane che mangio già gli spaghetti crudi ok se tu aspetta ok andavo intanto magari intanto direi che si amore ora usciamo si ma finisce un attimo qua vieni 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 aspetta questa dovevo prenderla caduta di freddo questa ad esempio è una una competenza che ti permette appunto qua dice quei attacchi e ferrati faranno cadere che non c'è di sopravvissuta l'impatto la tua caduta si dà il pen c'è nella caduta perdendo il 10% la quantità di carica mazza aspettate fu questo? questo è un sussetto? mmmm la macchina nooo va bene questo nooo va bene va bene praticamente il manz compensare parliamo un po' la nostra elemento verde ah merda me la se eh parca capitana ah c'è patasei eh mmm ora ora usciamo si dico qualcosina al guerriero che gli interessa allora poi dovevo dirti vabbè mmmm sto dicendo vabbè regolamente è quello i generatori sono cinque generatori i sopravvissuti devono aggiustare diciamo aggiustare i generatori sganazzando ... per poter alimentare i cancelli per poter uscire e fin qui ci siamo e ogni personaggio ha le sue abilità le sue competenze che gli permettono di ehm come dire avere una vita più facile ma le competenze ma le competenze ci hanno anche i killer ma poi questo poi magari lo vedremo in un'altra puntata ora vado ora vado a portare il bimbo fuori se no mi piaccia in parola sto maledetto eh bimbo eh ragazzi grazie grazie c'è un massaggiero qua un morgetto e niente ci ci si becca intanto i domani ci sono sempre dopo pranzo e grazie alla prossima ciao ragazzi